Ci sarà da attendere circa un mese in più per la completa riapertura a doppio senso di via Biceglie mentre confermata tra una decina di giorni quella di via Ospedaletto e l'aggiornamento sui lavori di interramento della ferrovia che stanno inevitabilmente avendo delle ripercussioni importanti sul traffico veicolare in città. Al momento le più grosse criticità si registrano su via Barletta, unica strada di accesso e uscita da Andrea rimasta intatta al momento assieme ad un attraversamento più secondario come quello di via Vecchia Barletta ma con la riapertura delle scuole il rischio di grandi problemi è dietro l'angolo e allora si sta facendo in gran fretta per riaprire come da cronoprogramma via Ospedaletto che dovrebbe essere completata tra il 15 e il 20 settembre. Già effettuati gli scavi, spostati i sottoservizi, ora si lavora sulla copertura per consentire il transito dei veicoli. Metà ottobre è invece il nuovo termine previsto per la completa riapertura di via Biceglie dove ci sono stati problemi per lo spostamento dei sottoservizi. Cavi elettrici e telefonici e tubi dell'acquedotto hanno richiesto molto più tempo del previsto e allora tutto si è inevitabilmente allungato nelle tempistiche. Al momento il transito è dedicato solo all'accesso in città per i due sensi di marcio e bisognerà ancora aspettare. Nel frattempo si continua con gli scavi ma soprattutto con la costruzione del basamento necessario all'installazione del nuovo ponte in metallo che consentirà anche un allargamento dell'asse viario.